Ti vedo tanto della tua vita, se hai dei problemi c'è chi può risolverli per te. Cristo non è venuto per aiutare gli angeli, ma è venuto per aiutare me. E questo è grande, sai? E questo è grande, sai? Perché ti parlo così poco di colui che tu t'ha fatto per me, per me. Cristo non è venuto per aiutare gli angeli, ma è venuto per aiutare te. E quest'amore sai? E quest'amore sai? Perché non vuoi che io ti parli di colui che tu t'ha fatto per te, per te. Ti vedo tanto della tua vita, se hai dei problemi c'è chi può risolverli per te. Cristo Gesù è la via, la verità e la vita, veloce e viva, amore infinito. E questo è per te, per me Gesù è tutto questo, da quel dì che a Lui ho detto sì, oh sì. Aspetta ancora un poco, non andare via, se stanco sei, vieni sediamoci qui. Ma io non ho bisogno di Cristo, altre cose a cui pensare e poi... Già quando ero piccolo, prima di addormentarmi, io pregavo Dio, le mani giunte. Spero che questo basti, spero che questo valga, ora che sono grande, ossia do la mia religione. Chi vedo stanco nella tua vita, se hai dei problemi c'è chi può risolverli per te. La tua giovinezza in fretta passerà, e poi da vecchio ancora non dirai. Ricorda che il Signore, prima di tutto il resto, quello che vuole, è avere il tuo cuore. Io pregherò per te, vorrei avere la certezza, che lassù c'è chi si occupa di me, di me. Cristo non è venuto per aiutare gli angeli, ma è venuto per aiutare te. Cristo non è venuto per aiutare gli angeli, ma è venuto per aiutare te. Cristo non è venuto per aiutare te. Ma è venuto per aiutare te. 、 Cristo non è venuto per aiutare te. Grazie.